La settima edizione di BlueSealand ha tutto il gusto di far registrare un successo perché intanto abbiamo avuto una risposta massiccia da parte di 42 delegazioni estere che sono arrivate e in parte stanno arrivando. È un'opportunità straordinaria per condividere quella che è la nostra cultura alimentare, la nostra cultura sulla pesca, la nostra cultura sulla salvaguardia del mare e fare in modo che tutti gli altri paesi possano in qualche maniera condividerla e possiamo confrontarci su quelle che sono le nostre pratiche con quelle che hanno loro. Moltissimi temi, moltissimi relatori, tutti qualificati. Abbiamo avuto una risposta da parte di relatori importantissimi sia nazionali che regionali. Siamo al via, quindi è tutto sotto i migliori auspici. Speriamo che il tempo sia clemente, per il resto speriamo anche in una buona partecipazione da parte del pubblico. Giovanni oltre che essere stato l'ideatore è quello che ci ha messo il cuore nel BlueSealand ed è sicuramente una persona insostituibile. Io sono certo che lui in questo momento sia contento di tutto quello che noi stiamo cercando di fare. È un evento centrale soprattutto che non solo pone le basi per una cooperazione internazionale basata su un settore fondamentale come la Blue Economy, ma da mazzarese dico che mi fa piacere che è un evento internazionale, sapere che è un evento internazionale che pone Mazzara al centro di un'economia e questo è fondamentale perché Mazzara un po' paga il fatto di essere in periferia rispetto alla nostra penisola. Ecco, BlueSealand sposta il baricentro e pone Mazzara come capitale a livello internazionale, non solo dal punto di vista economico ma anche culturale e sociale. Questo è un evento importantissimo e mi fa piacere specificare che non sono qui nelle vesti di ministro, seppure mi fa piacere essere qui anche come ministro, ma sono qui come cittadino di Mazzara, amico di Giovanni Tumbiolo che meritava questo riconoscimento e l'importanza di questo evento. Grazie a tutti. Al netto di quello che dicono i detrattori abbiamo degli indici di crescita che tutte le persone toccano con mano, ci siamo impegnati e lo stiamo mantenendo a finanziare 1500 imprese. Abbiamo messo in regime una serie di bandi che riguardano i giovani imprenditori e le start-up innovative. Stiamo realizzando un laboratorio, un pensatoio dove uomini e giovani, non solo italiani e non solo siciliani, ma di tutti i paesi riveraschi, possono venire a confrontarsi per sviluppare idee e iniziative e per realizzare delle imprese. Stiamo facendo tante di quelle cose, assieme ai contratti di sviluppo, che permetteranno alla Sicilia di recuperare un gap che onestamente è veramente, veramente tanto. Io sono molto fiducioso, sono contento e anche il Blue Zealand, che è una manifestazione che abbiamo voluto fortemente anche per ricordare i giovani tumbiolo, deve cambiare pelle. Il prossimo anno dobbiamo dimostrare di aver realizzato le cose che oggi ci stiamo impegnando a fare. L'Italia, nonostante gli effetti della crisi economica che c'è stata dal 2008, che adesso stiamo cercando di superare, sull'internazionale è andata benissimo, è andata anche meglio della Francia negli ultimi otto anni. Noi abbiamo mantenuto più quote di mercato della Francia in termini di percentuali, in termini relativi. Significa che il nostro export funziona, abbiamo raggiunto 447 miliardi di export, cifra record del 2017, 50 miliardi di surplus tra importazioni e esportazioni, significa una forte presenza dell'industria italiana nel mondo. Stiamo parlando di prodotti dell'industria, dell'agroindustria, di tutti i settori produttivi. Io direi che anche la Sicilia sta facendo dei passi in avanti, soprattutto nel settore dell'agroindustria, perché questo è un settore in cui in tutta Italia c'è stata innovazione, qualità, crescita e c'è stata sempre più attrazione anche sui circuiti enogastronomici che hanno trascinato anche il turismo. Infatti i dati sul turismo si sono visti anche in Sicilia molto positivi. Quindi io penso che questo sia un driver, proprio un motore della internazionalizzazione e della crescita, di una crescita sostenibile per il Sud, per la Sicilia e in generale per l'Italia. Blusiland è un progetto che ho definito allo stesso tempo simbolico e strategico perché rappresenta bene un territorio che si apre a valori e una proiezione internazionale. Io devo ringraziare ancora una volta, abbiamo perso il nostro amico Giovanni Tumbiolo, però lui ha avuto questa visione di portare Mazzara e la Sicilia in una dimensione internazionale, che non è soltanto una dimensione di cooperazione e di pace e di amicizia, ma anche una dimensione economica forte, perché l'economia blu, l'agroindustria, il territorio, l'artigianato sono delle chiavi di successo per le regioni del Sud e in particolare per la Sicilia, che ha un'enorme attrazione a livello internazionale, sia sul piano del turismo, sia sul piano dei territori, sia sul piano della sua storia e della sua cultura, ma anche di quello di nuovo che si sta producendo. Oggi, questa giornata di apertura dei lavori di Blue Sea Land, questa centrale iniziativa che si realizza nel Mediterraneo, avremo l'opportunità di ascoltare autorevoli esponenti del governo regionale, del sistema delle imprese, che racconteranno un po' dal vivo, direttamente, quelle che sono le opportunità, che sono tante, vanno messe a sistema, vanno finalizzate alla valorizzazione del nostro sistema delle imprese, nella capacità di internazionalizzarsi, ma anche la nostra capacità di attrarre imprese dai paesi, da altri paesi, per scambi di esperienze e per rafforzare le filiere, che nel caso di Blue Sea Land ovviamente ruotano attorno a quello della Blue Economy, della Blue Economy Zone, come nella intuizione felice del compianto Giovanni Tumbiolo, che avvide in quel blu del mare Mediterraneo una zona economica non da spartire, ma da valorizzare. Ecco, all'interno di questi valori, di questa strategia, gli strumenti sono davvero tanti, le risorse non sono di poco momento, il Ministro De Luca, direttore generale del MAE ci porterà un ulteriore contributo per alcune delle importanti strategie che il Ministro degli affari esteri sta portando avanti, anche insieme alla regione siciliana, penso al PES, al Piano Economico per il Sud, il PES 2, 50 milioni di euro di risorse investite per il sistema delle imprese e per la loro capacità di internazionalizzarsi. Qual è il ruolo di Blue Sea Land in tutto questo? La settima edizione conferma la circostanza, con 40 e più delegazioni dal resto del mondo, di un momento centrale della riflessione e degli approfondimenti nel campo dell'agra alimentare e della pesca, ma non da meno della possibilità di allargamento del dialogo interculturale fuori e dentro il Mediterraneo. Guardando ad Oriente e sapendo che però la sponda sud del Mediterraneo è per noi una sponda privilegiata con la quale continuare a rafforzare rapporti di collaborazione e supporto per far sì che anche quelli che sono le criticità che in questi anni stiamo vivendo possano diventare e possano essere affrontate attraverso non già la repressione ma la cooperazione. Il Blue Sea Land è intanto un'iniziativa straordinaria di contatto, di confronto tra i popoli del Mediterraneo, 46 mila chilometri di coste, 27 paesi che vi si affacciano, la opportunità straordinaria di ridare e rendere giustizia alla storia, una centralità del Mediterraneo con straordinaria occasione di sviluppo. In questo la Sicilia gioca una partita straordinaria perché negli anni, come è noto, abbiamo spinto anche attraverso gli strumenti comunitari, i finanziamenti comunitari per far crescere le nostre aziende e abbiamo, fra virgolette, un posto disciplinario di produzione molto rigido, ma oggi siamo in grado di produrre eccellenze di straordinaria qualità. Quindi abbiamo un bagaglio in termini materiali e quindi di una grande capacità di esportazione di prodotti della nostra enogastronomia, ma accanto a questa i nostri produttori hanno accumulato un bagaglio di straordinarie conoscenze che possono esse stesse divenire oggetto di esportazione e di crescita economica. Avete avuto modo di notare, così come gli addetti del settore, che in pochi mesi il governo musulmese ha messo in campo tutta una serie di iniziative, intanto un nuovo disegno di legge che mette ordine alla materia e dopo 21 anni si occupano in maniera organica e complessiva del settore della pesca. Accanto a questo è tutta una serie di misure comunitarie, di bandi che abbiamo messo in campo. Abbiamo 118 milioni di euro del FEAMP che gestiamo su tre assi, quindi la possibilità di far crescere le aziende, di ammodernarle, di rendere la pesca sempre più compatibile con l'ambiente. Poi il grande tema della trasformazione del pescato, quindi quell'industria pulita che chiaramente non inquina ed è in grado di conferire uno straordinario valore aggiunto al prodotto e poi il grande tema dell'acquacoltura. Oggi l'Italia e il sistema paese importa 4 miliardi di euro di pesce da acquacoltura, spesse volte parliamo di Pangasio del Vietnam e nel frattempo la Sicilia era ferma a soltanto 12 milioni di fatturato in termini di produzione di acquacoltura e quindi stiamo spingendo anche su questo asset per conquistare spazi di mercato che sono alla nostra portata e che sono enormi. La posizione geografica della Sicilia è soprattutto di questo lembo di Sicilia così importante per i collegamenti con il Nord Africa e il Maghreb è indicativa, non va assolutamente che riconosciuta. Lo sforzo in questi anni che il Blue Sillende ha fatto è stato uno sforzo di dialogo, di valorizzazione del pescato, di quello che col pescato questa terra sa fare. Attraverso iniziative come questa si costruiscono legami, si costruiscono capacità di dialogo che dobbiamo rafforzare. Questo è l'obiettivo della Regione, il Presidente Musumeci che mi ha chiesto di essere oggi qui proprio segnala l'esigenza di percorrere questa via con maggiore determinazione e maggiore impegno. La via di Blue Sillende segna un momento molto triste ma al contempo molto felice perché significa mio padre in qualche modo. Per noi è tutto quello che lui ha fatto della sua vita e del suo lavoro, la sua vita. È stato importantissimo per noi essere qui e soprattutto dare continuità a quello che lui ha realizzato negli anni perché Blue Sillende nasce a Mazzara, cresce a Mazzara e continuerà a correre a Mazzara perché è la sua base. È il crocevia di popoli che da sempre si è imposto di essere al centro del Mediterraneo e non per sua volontà di sicuro ma rappresenta un punto strategico allo stesso tempo per far sì che tutto quello che Blue Sillende tratta come sintesi di lavoro annuale perché rappresenta un po' la punta di un iceberg venga a realizzarsi e concretamente produca degli effetti sul territorio e su quelli che sono i temi importanti. La Blue Economy, la realizzazione della Blue Economic Zone e quest'anno nella sua forma cresciuta che è la bioeconomia circolare. Questi temi quest'anno verranno affrontati su tavoli tecnici, in convegni, attraverso l'intervento di tantissimi esponenti e relatori di altissimo livello. Per noi, ripeto, è un onore e soprattutto ci riempie il cuore di orgoglio il poter essere qui a portare avanti la sua missione sempre con grande determinazione e con il sorriso che ci ha insegnato ad avere. Grazie a tutti.